Stanno per partire il Teatro Garibaldi di Figli nelle stagioni di prosa e di concertistica ed è già tempo di abbonamenti. Anche quest'anno il cartellone è di altissimo livello con forti riduzioni per gli Under 35 e gli Under 26. Una scelta quella dell'amministrazione che ha l'obiettivo di promuovere il teatro tra i giovani puntando sugli sconti ma anche su tutta una serie di iniziative collaterali. Per abbonarsi alla stagione di prosa che inizierà il 10 novembre ci sono due finestre. Dall'8 al 20 ottobre avranno priorità le riconferme ad eccezione del giorno 11 quando la biglietteria rimarrà chiusa al pubblico per adeguamenti di sistema e passaggio al circuito Ticket One. Dal 22 ottobre al 3 novembre sarà il turno di nuovi abbonati. La stagione di concertistica che quest'anno propone uno sconto per chi è già abbonato alla prosa vedrà il consueto coinvolgimento dell'Orchestra della Toscana e inizierà il 14 dicembre. Due novità importanti per la stagione di prosa e per la stagione di concertistica. La prima è l'allargamento al circuito Ticket One per una maggiore diffusione e per una maggiore conoscenza anche del nostro teatro e dei nostri spettacoli. L'altra sono le forti riduzioni di costo degli abbonamenti per i giovani. Abbiamo cercato di incentivare la presenza dei più giovani al nostro teatro e quindi vi invito ad informarsi sul sito anche del Teatro Garibaldi. Tutte le informazioni su spettacoli, abbonamenti, prezzi dei singoli eventi si trovano sul sito internet www.teatrogaribaldi.org. Grazie.